Musica Bello a tutti i ragazzi, sono RandoShock e bentornati nel quarto episodio di Addio Minecraft Ocean E niente, siamo per l'appunto qui Qui ho danneggiato la cosa perché guardate BAM Spadia in diamante, non vi dico che cosa, non vi dico quanto cazzo ci ho messo a farla Guardate, BAM Affilatezza 5, protezione delle esplosioni 4, potenza 4 13,25 danno di attacco Se non ci credete, sono sempre attrezzato Vi faccio vedere le immagini mentre trovo il diamante Cioè tengo proprio lo screen Faccio sempre gli screen e tutto Qui ho fatto lo smistamento chest, come potete vedere Già che mettiamo questo qua Tutti i libri Trovati ovviamente nella nostra fortezza Nella nostra precedente fortezza Ho viaggiato un po', ho trovato mucche e cose così E come vi ho detto, ottengo quel trucco Non lo chiamerei trucco Vabbè, comunque ottengo quella cosa che quando muori non perdi gli oggetti Quindi ho trovato per l'appunto In zone l'albero di Betulla E scavando qua ho trovato Aspetta Ho trovato dell'argilla Magari vediamo Di prenderlo un po', magari ci facciamo Un po' i vasi O O qualsiasi cosa che Comunque può essere di Che può abbellire, ecco Vediamo Vabbè dai, poi magari lo prenderò In off Non voglio Un po' il cazzo In questo episodio Faremo subito Voglio subito azione Molto Vediamo un po' di Ok Scendiamo molto velocemente Dai su Ci siamo, ci siamo, ci siamo Quasi Ah, qui ho messo Le altre scarapieoli In modo da non cadere Ok Qui ho smantellato tutto Sento zombie E a me l'azione piace Ora in attesa che La nostra Spada di ferro si rompa Io prendo Queste librerie Vabbè poi le prenderò In un futuro Scusate l'interruzione No ragazzi Ok Mi sono trovato questo spawn E sinceramente non l'ho bloccato Perché adesso Guardate questo Tipo una farm Manuale Di Di XP E c'è una zombie Che mi ha droppato Una carota E adesso aspettiamo Staparte me la velocizzo Finch'io non arrivo A livelli elevati Bella Ok ragazzi Dopo questa direi che possiamo anche spaccare Ok E' di ritornare in casa Quindi andiamo Ho interrotto il video Perché Ero entrato un attimo Mi muro in camera Quindi Adesso Devo parlare anche A passavoce Per non Destare Dei sospetti Scherzando Semplicemente Perché sto morendo Sono un cazzo di pro Ritorniamo un attimo In casa Quindi Dalla forna La nostra carissima Fortezza Possiamo Possiamo ritornare Dove 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 Ah non è di qua sicuro Dobbiamo ritrovare Ok ok ho trovato Perfetto Eccolo lì Ritorniamo in casa Speriamo sia notte fuori Se vi sta subibrando il telefono Quindi è probabile che sentite la vibrazione E intanto vi invito a lasciare Un like al video Ora Intanto che salgo Vabbè Comunque Passate dal canale di Albruch Gaming FIFA Non mi ricordo Ma il ragazzo si chiama Ve lo metterò Il link In descrizione Non so neanche parlare Per gli appassionati di FIFA Lui è molto bravo È un cazzo di pro E vi aprirà il culo A due Quindi passate sul canale Che Starà in descrizione Sono riuscito a non morire Sono forte Ok Allora Lasciamo Le cose nelle apposite ceste Quindi questo Quindi Quindi Questo E basta Ok poi Qui ho messo I I cubetti Random Ok 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 no Non mi fanno mettere Il cibo Lo mettiamo qua Questa la pianto Perché Magari Riesco a fare qualcosa E Sta piovendo Quindi Dovrei anche mangiare In teoria Quindi mangiamo un po' di pollo Perfetto Ah vi volevo far vedere Una Una cosa che ho fatto io Magari Dopo la notte Aspettiamo che Un attimo Musica e suoni No Tempo atmosferico Zero Ok Guardate Cosa ho creato Mi mi sono scordato Di farvi vedere Il nostro piccolo orto Già che Prendiamo tutto Cioè tutto Alto Basta Non la volevo fare Automatica Anche perché Non mi sto andando Quindi Vai così Vai così Continua a vibrarmi Il cellulare Ok Via questo Andiamo Ok Anzi Facciamo crescere Gli alberi di petulla Vediamo Vediamo se crescono Velocemente Ok 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 Poi li arriamo Tutti insieme Visto che oggi Ci stiamo dedicando All'agricoltura Andiamo a vedere Le zucche Non sono cresciute Andiamo a vedere L'allevamento L'ho modificato Un po' Ho messo a due porte Perché se non uscivano Ok Ok Porca puttana Ok Basta Meglio così Ok Quindi usciamo E quelle che stanno fuori Le uccidiamo Ok Usciamo E andiamo Da qualche parte Non so dove andare Questo video Non sarà molto lungo Perché E' tardi Quindi Non posso fare più Più un macello Del solito Quindi Stavo un po' più zitto Ehm Non so se volete Che creo qualche costruzione Basta che Che me lo dite Sotto nei commenti Tu mi dici Quello che devo fare E io lo faccio Ok Mettiamo tutto qua Ehm Niente Meglio direi Anche che il video Può finire Se vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi Ehm Ehm